Ciao ragazzi, diamo il nome a questo composto. Prima cosa da fare è individuare la catena principale di atomi di carbonio che abbia tutti i legami multipli, quindi per forza sarà questa catena. Ora la indico per semplicità. Bene, da dove dobbiamo partire a numerare questa catena? Parto da questo estremo o parto da questo? Beh, la regola ci dice che in presenza di legami multipli agli estremi della catena devo dare la precedenza, cioè devo partire dal doppio legame, quindi per forza di cose partirò da questo atomo di carbonio, quindi questo sarà il mio atomo di carbonio 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi abbiamo 8 atomi di carbonio. Proviamo a dare il nome alla catena principale. Attenzione, qui abbiamo due doppi legami e un triplo legame, quindi il nome sarà un pochino diverso rispetto ai precedenti esercizi, e infatti dobbiamo andare a mettere le posizioni del primo doppio legame e del secondo doppio legame, quindi 1,4, 8, perché ci sono 8 atomi di carbonio nella catena principale, 8 di n, perché sono due doppi legami, quindi 8 di n, poi posizione del triplo legame 7 e infine ino, quindi 1, 4, 8 di n, 7 ino. Bene, adesso diamo il nome ai sostituenti. Allora, in 4 ho 1, 2, 3, 4 atomi di carbonio, quindi in 4 sarà un but, il, in 5 invece avremo un, 1, 2, sarà un etil, d'accordo? Diamo il nome finale alla molecola. Allora, si parte sempre in ordine alfabetico, Quindi avremo 4 butyl, 5 etyl, e ora il nome della catena principale, 1, 4, 8dn, 7ino.